Ad Riccardi torna questo grande appuntamento al Marina di Pescara, Mostra del Fiore, tanti espositori da tante regioni, anche da fuori Italia, un grande evento. Sì, finalmente, dopo due anni di pandemia, dopo due anni che ci hanno costretto a stare in casa, con questo bellissimo sole, queste bellissime giornate, stiamo qui al porto turistico con questo evento, Mostra del Fiore Florviva 2022, saremo dal 23 al 25 aprile, saremo qui presenti, vi aspettiamo tutti e tanti in massa a vedere questi bei colori, verde, ambiente e tempo libero. Il nostro settore ha reagito con orgoglio agli ultimi due anni che sappiamo come sono stati vissuti dal punto di vista delle difficoltà, è un settore che continua a crescere, a investire e a lavorare quotidianamente per raggiungere risultati, soprattutto di qualità. Quali sono le particolarità di questa edizione della Mostra del Fiore? In questa edizione riproponiamo in maniera sempre più selettiva la presenza di Vivai, una esposizione di prodotti nuovi che è possibile vedere dentro il padiglione e momenti d'incontro, sia tecnici, sia più rivolti al grande pubblico, come nel caso delle orchidee. Grazie alla sinergia tra gli organizzatori, la Camera di Commercio e il Marina intendiamo proporre una manifestazione che guarda al futuro e che tenta di valorizzare un comparto che in questi anni di crisi pandemica è stato fortemente colpito, che è quello del floroviviaismo. Presidente, tra l'altro questo è il primo grande evento della stagione primaverile ed estiva del porto turistico di Pescara che è pronto ad ospitare altri eventi. Sì, lo dicevo, questa è la prima manifestazione, a maggio ripartirà estatica, quindi il Marina sarà a pieno regime per tutta l'estate, naturalmente sperando che la condizione sanitaria ce lo consenta. Abbiamo organizzato una stagione piena, la faremo anche con la possibilità di ospitare nelle nostre strutture visitatori al 100% e non con le limitazioni degli anni precedenti, confidiamo che questo sia veramente l'anno della ripartenza.